Nel 1958 Wolfgang Pauli sta per morire, la sua teoria quantistica è quasi completa. Lui dice ai suoi studenti che la bellezza non è nella poesia, che l'unica vera poesia è la fisica quantistica, che è l'unica vera bellezza, l'unica vera armonia. Ha ormai capito come la realtà non esiste, la realtà è un'onda, è un'illusione, è un'onda che collasse. Quando la guardiamo collasse e diventa la realtà. La fisica deve essere quantistica alla meccanicistica classica. Ma è solo un'illusione. E allora mi chiedo io, com'è possibile che osserviamo tutti la stessa realtà? O non è la stessa realtà per tutti, o se lo è, è probabilmente la realtà che ci viene descritta da una mente superiore che la fissa all'interno di tutte le nostre coscienze. Quindi forse è vero che siamo la simulazione di un essere superiore, di un computer, siamo un gioco. Esiste la realtà.